Ciao a tutti, l'ONG SAFE con sede a Bruxelles è membro del comitato organizzativo dello Sean Film Festival Film di Peso. Questo messaggio è per invitare voi, registi amatoriali e professionisti, a partecipare alla quarta edizione del festival che si tiene nella città di Latina i prossimi 17 e 18 aprile. Vista la grande attenzione di Safe Food Advocacy Europe per i temi legati ai disturbi dell'alimentazione, ci teniamo particolarmente all'iniziativa di Film di Peso, che vuole sensibilizzare la popolazione sul tema dei disturbi alimentari, attraverso un potente strumento quale il cinema. La scadenza per l'invio dei cortometraggi è il 20 febbraio, vi invito quindi a visitare il sito www.fimdipeso.it e a scrivervi numerosi e con orgoglio. Forza ragazzi che abbiamo bisogno della vostra grande creatività, a presto spero!